e sono 100 euro 100 euro per mia moglie questa è d'altra meraviglia che ci sono uomini che si ricordano ancora di questo anniversario amore stavi parlando di me vero mi scusi a mio marito buongiorno buongiorno scusate posso avere anche un bigliettino certo come no e che dovete fare a questo bigliettino vabbè devo scrivere una frase d'amore a mia moglie no è stata ancora a scrivere le frasi d'amore ce l'avete un telefonino si me lo dì me lo dì ambro prego come si chiama sua moglie pupella no di che di nome pupella proprio pupella di che nome è merda della moglie facciamo un omaggio a pupella 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 sia femmina più bella il cuore merata e l'agio spusa ma 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 sono da facendo lasciate stiamo scrive da solo bigliettino l'aspetto ciao